Musica Prima edizione di Ora Tg, apriamo con la cronaca pirateria audiovisiva. La Polizia Postale ha sbantellato una rete transnazionale che forniva oltre 900 mila utenti. Catania è uno dei poli di diffusione del streaming. 70 le persone indagate dalla Polizia Postale su direttive della Procura della Repubblica di Catania in diverse regioni d'Italia. 10 euro per avere libero accesso a palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme televisive come Sky, Dazon, Netflix, Amazon Prime. Era il sistema delle IPTV illegali, la pirateria audiovisiva estesa a macchia d'olio grazie ad un sistema di gerarchie che operavano a livello transnazionale. I server all'estero ma tra i poli di controllo c'è anche la città di Catania e in Sicilia il gota dello streaming illegale con profitti mensili per milioni di euro. 70 le persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere a carattere transnazionale. Finalizzata la diffusione di palinsesti TV ad accesso condizionato e ancora riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ma anche ricettazione e pure spaccio di sostanza stupefacente giusto per citarne alcuni. Si tratta della punta di un iceberg, rivelano gli investigatori. La consapevolezza di trovarsi in contesto illegale c'è e poi andremo a verificarla. Oltre alle 70 persone denunciate ovviamente poi verranno approfonditi anche il ruolo di chi comunque distribuisce o comunque acquista questa forma illegale di produzione. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un mercato che poi alimenta altri mercati criminali e poi avvantaggia, porta risorse importanti. Si avvantaggia il fatto che si pensa che si sta facendo una piccola cosa, ma in realtà si contribuisce in maniera fattiva ad un giro criminale importante con ricavi enormi. Il Gota è italiano, l'infrastruttura però si appoggia a strutture straniere, questo per avvantaggiarsi anche di quella che è poi la difficoltà che hanno gli organi inquirenti di poter raggiungere le infrastrutture. Infrastrutture informatiche importanti, quindi stiamo parlando di diverse centrali che poi accumulano i segnali legali e poi li moltiplicano, li ridistribuiscono verso i clienti. Il gruppo aveva una struttura capillare dal capo sino a reseller, colui cioè che rifilava i pacchetti attraverso canali social. Si tratta del prosieguo dell'operazione Blackout coordinato dalla procura distrettuale che oggi ha fatto emergere il 70% dello streaming illegale nazionale, pari a circa 900 mila utenti con un danno, oltre i 30 milioni di euro. I giri affari sono milionari perché da una stima fatta dal parziale che noi abbiamo riscontrato nell'attività di indagine, sono certamente milionari, decine di milioni almeno mensili. Ci sono certamente delle figure apicali che sono i capi dell'organizzazione, a cui che gestivano, coordinavano, davano le direttive su come effettuare poi dall'acquisto dei flussi sino alla loro gestione. C'era una sorta di porta a porta virtuale, di un passaparola, gruppi sui sistemi di messaggistica, sui social, ma anche le conoscenze dirette. Gli utenti rischiano delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative. Sottrevano furtivamente le chiavi delle auto parcheggiate per poi rubare in casa dei malcapitati in tutta tranquillità. Tre catanesi sono stati ammalettati dai carabinieri di Piazza Dante nella Capulogo Etneo. Il modus operandi era sempre lo stesso, si appostavano davanti a supermercati o anche ospedali, prendendo di mira automobili precedentemente parcheggiate. Attraverso dei sofisticati sistemi elettronici rubavano poi le chiavi che sarebbero servite ad entrare nella casa dei malcapitati. A questo punto i malviventi studiavano attentamente le abitudini della vittima presa di mira, effettuando il colpo quando se ne creavano le condizioni. Sono così finiti in manette tre catanesi di 32, 55 e 59 anni. I tre che dopo essere entrati nelle varie abitazioni arraffavano soldi, gioielli e altri beni di valore, sono adesso indagati perché accusati di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in abitazione. Dopo le effrazioni, spesso si servivano della fiamma sidrica per aprire le varie cassaforti. In soli pochi mesi di indagine sono stati ricostruiti ben sette furti in abitazione con un bottino complessivo di 230 mila euro circa. Il copione utilizzato era sempre il medesimo, frutto di un'organizzazione minuziosa. La vittima veniva individuata all'interno di parcheggi di supermercati o di ospedali e una volta posteggiata l'autovettura, mentre un componente della banda la seguiva pedinandola all'interno dell'edificio, gli altri lo vistavano nell'abitacolo per impossessarsi delle chiavi delle abitazioni, dopo aver aperto il veicolo con l'utilizzo di disturbatori di frequenza. Da quel momento iniziava una vera e propria attività di studio delle abitudini della vittima. Una volta giunto il momento propizio, la banda si introduceva nell'abitazione della vittima utilizzando il duplicato della chiave e con l'aiuto di una fiamma sidrica era in grado di aprire ogni cassaforte. I ladri erano stati arrestati anche in flagranza di reato nel corso delle indagini. La compagnia Carabinieri di Piazza Dante, in quella circostanza, aveva rinvenuto oggetti di valore, denaro, gioielli, elettrodomestici, ma anche strumenti e kit per le frazioni di elevato livello tecnologico, quali dispositivi GPS per seguire le vittime, disturbatori di frequenze per entrare negli abitacoli dei veicoli da cui poi veniva asportata la chiave dell'abitazione per eseguire il duplicato. La scomparsa di Salvatore Chiofalo, sparito nell'agosto del 2016 a Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ultima ore, i Carabinieri su ordine della Procura di Barcellona stanno notificando i primi avvisi a comparire dinanzi ai pubblici ministeri per tutta la giornata di ieri. Invece sono stati condotti sopra luoghi con accertamenti svolti grazie anche al dispiegamento dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia. Al fine di fare maggiore chiarezza sulle ultime ore dell'Ecchiofalo, in particolare sono state ripercorse e battute le strade montuose delle frazioni di Gala, Miliardo, Fondacarso, che secondo la ricostruzione degli inquirenti potrebbero essere state utilizzate dai principali indiziati per raggiungere e poi lasciare il luogo dove è stato commesso il delitto nel corso della giornata di oggi. I Carabinieri hanno svolto anche attività di rastrellamento e ispezioni in caso l'aria. All'epoca della scomparsa, lo ricordiamo, si parlò di caso di luparà bianca con vittima il giovane allevatore barcellonese. Cinque persone sono state arrestate a Siracusa nell'ambito di una indagine relativa ad atti indimidatori nei confronti del titolare di un'agenzia di pompe funebri che voleva espandersi a Sortino. I Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Siracusa della Compagnia di Augusta hanno fatto scattare le manette ai polsi di cinque persone, indagate nell'ambito di un'inchiesta della DDA catanese, che ha preso l'avvio da una serie di attentati incendiari. I provvedimenti restrittivi sono stati notificati dai Carabinieri tra Solarino, Sortino e Siracusa. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di illecita concorrenza con minaccia e violenza aggravata dal metodo mafioso, tentata estorsione aggravata e porto di arma da fuoco. L'indagine prese le mosse nel maggio del 2020, dopo la denuncia del titolare di un'agenzia di pompe funebri di Siracusa, che aveva subito minacce, ad opera di un impresario concorrente finalizzata ad impedire l'esercizio dell'attività economica nel comune di Sortino. Minacce verbali, alle quali seguì anche l'esplosione di due colpi d'arma da fuoco contro la sede retusea dell'agenzia funebre. Seguirono inoltre una serie di sabotaggi dell'attività della denunciante. Nel novembre di due anni fa, i militari dell'arma arrestarono poi un soggetto che si presume legato alla clan Nardo di Lentini, trovato in quella circostanza in possesso di 5 kg di polvere pirica, destinata ad un attentato dinamitardo in danno di chi esporse denuncia nel corso delle indagini, evidenziata la ripartizione territoriale di interessi tra il clan Santa Panagia e il clan Nardo. L'obiettivo era quello di impedire l'apertura e l'esercizio della nuova agenzia di pompe funebri nella comune di Sortino. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Catania nei confronti di 5 soggetti ritenuti responsabili di illecita concorrenza con minaccia e violenza con l'aggravante del metodo mafioso. Sono stati rinvenuti a casa di un pregiudicato mirillese 5 kg di esplosivo, destinati a far saltare in area la sala cinesta della costruenda sede delle non aranze tunebri a Sortino. Con l'indagine di oggi si dimostra che la collaborazione con le forze dell'ordine è fondamentale per il mantenimento della legalità nel territorio. Furto con spaccata a Santa Teresa Riva. Nella notte tre persone con il volto coperto hanno utilizzato un'autovettura come Ariete sfondando la vetrata di ingresso di questa profumeria in via Francesco Crispi. Rotto il vetro sono entrati nel negozio, poi sono fuggiti. Poco prima avevano bloccato la strada con un altro mezzo piazzato ad alcune centinaia di metri per evitare di essere disturbati, indagano i carabinieri di Taormina. Scovate a Palermo 12 persone che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Tra queste anche un condannato per corruzione e associazione mafiosa. La Guardia di Finanza ha scovato gli ennesimi furbetti del reddito di cittadinanza. Stavolta tra coloro che per anni hanno percepito indebitamente il sussidio erogato dallo Stato c'è chi era stato condannato per associazione mafiosa e altri gravi reati. I casi appena scoperti dei finanziari in tutto sono 12. Scattate le denunce in procura è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 50.000 euro, somma corrispondente all'ingiusto profitto. In un caso particolare, uno degli indagati che aveva ricevuto una condanna per estorsione ed atti persecutori avrebbe riscosso nell'arco di soli tre anni una somma complessiva superiore a 26.000 euro. In altre due circostanze, emerso invece che tra gli indagati c'è anche chi avrebbe indicato nella domanda di accesso alla misura assistenziale familiari in stato detentivo, senza darne comunicazione all'Inps. Le importanti somme economiche sottratte sono destinate infatti a persone e famiglie che si trovano in condizioni di disagio, ad accertare l'ingiusto profitto e danni dello Stato le indagini svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in sinergia con l'Istituto di Previdenza, al quale sono stati segnalati gli illeciti per la revoca del beneficio. I carabinieri della compagnia di Randazzo, con l'ausilio dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno effettuato nei giorni scorsi un servizio di controllo del territorio a largo raggio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa nell'ambito del Comune, del territorio comunale di Randazzo. I militari dell'arma hanno effettuato numerosi controlli all'automobilista in transito in prossimità dei principali snodi viari della zona. Hanno identificato 200 persone, proceduto al controllo di 100 veicoli. La senzioni al codice della strada, elevate per delle violazioni riscontrate, ammontano a circa 6.000 euro. Poi ci spostiamo invece a Noto, dove gli agenti del commissariato hanno denunciato un uomo di 38 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, per riciclaggio. Secondo le indagini avrebbe rubato due campane dalla chiesa Madonna Assunta per appunto poi rivenderle e quindi monetizzare quanto fatto. Voltiamo adesso pagina, partiamo di altro, partiamo dalla politica. Ieri l'avvio della diciottesima legislatura all'Assemblea regionale siciliana, con l'elezione del presidente Galbagno, il primo catenese, tra l'altro il più giovane, eletto allo scranno più alto dell'Assemblea. Vediamo. Dopo essere stato eletto, Gaetano Galbagno ha ringraziato tutti i colleghi. L'Assemblea regionale siciliana non ha mai avuto un presidente così giovane. Galbagno, 37 anni, esponente di Fratelli d'Italia alla seconda legislatura, si è giudicato lo scranno più alto di Sala d'Ercole con 43 preferenze, 7 in più del quorum necessario che prevede il raggiungimento di 36 voti. La fumata bianca è arrivata alla seconda tornata, un nome, quello del giovane deputato di Paternò, che ha retto, nonostante le tensioni interne, la maggioranza, emozione e grande responsabilità per il ruolo che mi ha presto a ricoprire, questo in sintesi quanto riferito dal neopresidente nel discorso tenuto dopo l'elezione. Oggi è stato eletto il presidente dell'Assemblea, più giovane di sempre, se non ricordo male il precedente era di un 39enne, il primo della provincia di Catania. Chiaramente questo non deve essere per me una sorta di medagliere, ma significa anzi avere maggiori responsabilità e cercare di poter utilizzare tutti gli strumenti che sono nelle mie possibilità per poter portare le migliori risposte a questo territorio che è un territorio che necessita veramente di tanto. L'avvio della diciottesima legislatura è avvenuta all'insegna delle polemiche, ma l'umore interni al centro-destra scatenarle. Ieri l'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miciche, il quale ha dichiarato di ritenersi fuori dalla maggioranza. Quello che non capisci è come che io sono contento e ti sono cazzate, questa è la cosa che non mi riesce chiaro di capire. Ma se che le tensioni le crea lei, le dicono loro. Io ho creato tensione. Le dicono? Un merito di ritenzione, non mi hanno dato un'assessore, non mi hanno dato manco gli caramelle che si danno ai bambini e le creo di tensione. Sì, non c'è di ritenzione? Sì, non c'è di ritenzione. Io, non c'è nessuno, io. E quindi opererò a coscienza, secondo quello che pensano giusto fare. Non ho più il senso di appartenenza nei confronti di chi non mi ha voluto. Questo è certo. Conti alla mano, l'elezione di Galvagno si è concretizzata nonostante qualche franco tiratore nella maggioranza. In soccorso, con molta probabilità, non se ne può avere certezza, perché il voto è segreto, sono arrivati in blocco i voti dei deputati di Cateno De Luca. Prendere le risorse che il buon Musumeci non ha speso e metterle subito in circolazione, soprattutto per quanto riguarda il tema delle energie. Abbiamo noi un dipartimento che non ha speso le risorse, circa 700 milioni di euro fermi, è arrivato il momento di fare un'operazione straordinaria sul piano energetico. Questa è già una delle prime cose. Poi è ovvio che l'organizzazione della regione va rivista, ma qui ci sarà un'impronta, mi auguro, da parte del nuovo governo sulla quale ci potremo confrontare. Noi, fra qualche settimana, definiremo anche la nostra giunta e di conseguenza ci confronteremo con i nostri assessori e con gli assessori, speriamo che arrivino presto, anche del governo del buon Schifani. Ed intanto al Ministro Catanese, nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile nazionale e le politiche del mare. Lo si legge nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi oggi, dopo il Consiglio dei Ministri, in cui sono stati rimodulati gli incarichi ad alcuni ministri senza portafoglio, al fine di rendere le cariche più funzionali all'esercizio delle rispettive deleghe. L'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, con una lettera chiede ai vertici del Governo nazionale una proroga degli extracosti sui materiali della costruzione per l'anno 2023. Quei aumenti mettono a rischio l'intero comparto. L'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, scrive una dettagliata e accurata lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Peloni, per chiedere la proroga degli extracosti, evidenziando i pericoli per il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rischia di venificare le tante opere pubbliche programmate in seguito all'esplosione dei prezzi dei materiali da costruzione, ferro e cemento ed altri manufatti da cantiere. Le imprese hanno contabilizzato e aspettano 5 miliardi di euro e chiedono di confermare anche per il 2023 i piani di aiuti governativi. Senza conferme, l'intero comparto delle costruzioni si espone a collasso con inevitabili ricadute sul piano occupazionale. L'appello dei vertici nazionali del lancio è rivolto anche ad altri esponenti del governo, Salvini, Giorgetti e Fitto, chiamati ognuno con le proprie responsabilità istituzionali a dare risposte in un momento difficile per il Paese, rendendo meno gravosi gli impegni già assunti dalle imprese in importanti e strategici progetti cantierati in uno dei settori trainanti dell'economia italiana, a maggior impatto, soprattutto nella regione del Mezzogiorno, dove la crisi è più accentuata e di difficile gestione per i costruttori, finiti nella morsa incontrollata del caro prezzi che non accenna a rientrare, nonostante gli sforzi e gli impegni assunti dal governo e dalle regioni. In Sicilia, più in generale nel sud, la situazione è al limite e le ditte costruttrici sono preoccupate per il loro futuro e quello delle maestranze. Il 2022 è stato un anno difficile, il 2023, senza impegni concreti, a sostegno della categoria da parte del governo centrale, si delineano scenari complessi e assai difficili da gestire. Il Presidente Provinciale, Ance Catania, Rosario Freste, esprime preoccupazione e chiede la proroga degli extracosti in scadenza il prossimo 31 dicembre. Siamo fortemente preoccupati per quella che è la prossima scadenza del decreto aiuti che ci ha permesso quest'anno di poter compensare gli extracosti sostenuti, anche se li abbiamo contabilizzati ma non ancora incassati. Devo dire che qualche amministrazione ha pagato, ma tante altre ancora devono pagare. Ma quanto bene abbiamo avuto la possibilità di averli contabilizzati. Il decreto scadrà al 31 dicembre, quindi abbiamo chiesto al Governo nazionale una proroga della legge ma poi un provvedimento strutturale sulla revisione dei prezzi per evitare che ci sia ad ogni aumento, ogni fenomeno che porti ad aumentare i prezzi dei materiali, ci sia sempre questa incertezza e le nostre imprese possano lavorare con più serenità e programmare con maggiore serenità proprio il futuro. Attività ispettiva al mercato agroalimentare di Sicilia e di Catania degli ispettori pesca della Guardia Costiera Etne. Attività che ha permesso di rilevare la presenza di un ingente quantitativo di pescato all'interno di un mezzo frigorifero che si è rilevato non commerciabile. Un carico di caponi per un peso complessivo di circa 700 kg sprovvisto della documentazione di tracciabilità. Il pescato, posto sotto sequestro, dichiarato commestibile, è stato devoluto al Banco Alimentare per la successiva distribuzione a famiglie bisognose ed associazioni caritatevoli. Voltiamo pagina, torna dopo la pausa forzata dalla Covid, la festa d'autunno all'Istituto Agrario Fermi Eredia di Catania, celebrazione del vino e dei prodotti locali tipici in uno degli istituti storici e di formazione d'eccellenza in tutta Italia. Il percorso formativo e conoscitivo della vinificazione, la conoscenza tecnica e anche della tecnologia, delle coltivazioni e delle produzioni vinicole al centro della festa d'autunno 2022 che torna all'Istituto Agrario Fermi Eredia di Catania dopo lo stop a causa della pandemia. Per tutta la giornata, dibattiti, tavole rotonde, momenti interattivi con la visita dei vigneti e la peggiatura dell'uva nella cantina dell'Istituto. Uno degli eventi inaugurali con il quale noi vogliamo cominciare a fare un lancio di eventi, di iniziative aperte al territorio che siano anche per i nostri ragazzi momenti di crescita, momenti di apprendimento. Oggi per esempio, approfittando della giornata che è dedicata proprio al vino novello, San Martino, è una giornata tradizionale storicamente e culturalmente legata alla nostra storia, e abbiamo trattenuto i nostri ragazzi in Aula Magna parlando del processo di vinificazione, il ciclo biologico della vite, quindi tutte tematiche legate proprio al tema del vino e dell'uva, della coltivazione dell'uva. Seguirà poi un momento più distensivo di visita ai vigneti che sono presenti nella nostra azienda agraria con i quali noi facciamo una raccolta molto significativa che è importante e che trasformiamo poi in vino, anche con l'ausilio di altre, l'apporto di altre uve provenienti da vigneti differenti esterni alla scuola. Nel pomeriggio avremo una tavola rotonda sulla tematica proprio della produzione dei vini, in un'epoca che ormai è votata la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, che quindi affronteremo come poter produrre dei vini di qualità anche in funzione dei cambiamenti climatici che stanno accadendo, stanno avvenendo, in un'era in cui veramente l'informatizzazione, la tecnologia è sempre più avanti rispetto a noi. Come fa la Sicilia ad imporsi in un mercato mondiale sempre più competitivo? C'è vero tanta innovazione, c'è scienza, c'è tecnica, ma c'è anche una tradizione che noi abbiamo che la Sicilia vanta. Sicuramente sì, lo sguardo al passato deve esserci sempre. Del resto è la nostra storia che non possiamo rinnegare, abbiamo un passato che ci ha legati alla terra e grazie alla terra noi siamo riusciti anche a sviluppare un'economia che adesso è diventata molto importante, molto apprezzata anche è sviluppata e del resto si sta sviluppando anche una forma di turismo moderno che è legato ai percorsi del vino, percorsi enogastronomici e percorsi agrituristici. Quindi l'innovazione tecnologica è molto importante perché anche la meccanizzazione degli strumenti che si usano in agricoltura ci allontana da un passato, da una tradizione agricola che insomma era ancorata alle braccia, alla forza umana, ci aiuta, però è chiaro che le competenze e le conoscenze sono ancorate al nostro passato, è una tradizione che dobbiamo conservare e trasmettere ai nostri ragazzi. Notre-Dame de Paris torna in Sicilia questa sera al Palacatania, il cast originale che ebbe enorme successo venti anni fa si esibirà sino al 20 novembre prevista a Catania più di 30.000 persone proprio per questo grande musical. Il grande ritorno di Notre-Dame de Paris a Catania dopo 20 anni l'intero cast originale del debutto che ha fatto sognare tutte le generazioni va in scena al Palacatania. Oggi la presentazione ufficiale alla stampa al Palazzo degli Elefanti si parte questa sera alle 21 con la prima di 12 repliche per cui sono previste oltre 30.000 presenze di cui 8.000 provenienti da fuori Sicilia. In scena 20 anni di musiche danze acrupazie ed emozioni che hanno reso Notre-Dame de Paris un cult dello spettacolo dal vivo in cima da sempre nelle classifiche dei titoli teatrali con numeri di presenze strabilianti ben oltre i live della musica rock e pop. Nel 2016 l'opera è stata insegnita del bigliettone d'oro Ticket One alla Rockwell Awards nello stesso anno tre premi agli Italian Music Awards come migliore spettacolo social migliori musiche firmate da cocciante e migliore spettacolo classico una formula vincente che ritorna uguale con il suo cast storico così come voluto da Riccardo Cocciante e la produzione si è uno spettacolo assolutamente fedele a se stesso da vent'anni sempre uguale sono cambiati i tempi ma la messa in scena è la stessa il messaggio è lo stesso dicevo prima in conferenza ahimè alcuni temi sono gli stessi non è cambiato molto negli anni e siamo qui proprio a raccontare questa storia d'amore così travagliata così difficile ma così sincera e messa in scena con grande verità l'opera popolare moderna un successo mondiale è stata tradotta in nove lingue diverse attraversando 20 paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli e 13 milioni di spettatori internazionali accanto a Gio Di Tonno in scena Quasimodo oggi in conferenza stampa anche la bellissima Lola Ponce nelle vesti di Esmeralda che come vent'anni fa lancerà sul palco il messaggio di libertà e riscatto della donna L'amore l'allegria la spontaneità l'essenza i valori che non dobbiamo perdere mai avanti a nessuna situazione e a nessuno proprio i nostri valori la nostra essenza i nostri diritti le nostre emozioni vanno custodiate Sono passati 20 anni come ritornare di nuovo? Non me ne sono mai andata in realtà Per me questo è un ruolo che ho fatto proprio era una ventenne quando ho iniziato 29 anni proprio ho imparato l'italiano attraverso questa musica Prima si scherzava sul fatto degli anni passati ma per te sembrano non essere passati Per le donne che ci seguono di ReTV qual è il segreto? Allora il segreto secondo me è vivere con tanto amore essere custodire i nostri sentimenti lo che dice un po' Esmeralda portare avanti una vita sana è importante Uno degli spettacoli pre-pandemici così vede finalmente luce dopo tre anni a Catania con i biglietti acquistati nel 2019 ma protetti Bisogna stare attenti a utilizzare il biglietto giusto il giorno giusto perché altrimenti si rischia di o perdere il biglietto e dover comprare un altro quindi consiglio di collegarsi su Ticketuan e di vedere il proprio biglietto a che giorno è stato riprotetto Adacireale presentata la 21esima edizione di Magma mostra di cinema breve in scena dalla 17 al 19 novembre alla multisala Margherita Magma mostra del cinema breve giunta alla 21esima edizione apre i lungometraggi e consolida la propria mission nel promuovere pellicole realizzate dai giovani artisti con il contributo di autori di talento in ambito nazionale ed internazionale appuntamento a multisala Margherita dal 17 al 19 novembre per la proiezione e le premiazioni dei corti in concorso stamani conferenza stampa di presentazione dell'evento che ha saputo ritagliare sul ruolo importante nel vasto panorama dei festival di nicchia uno spazio basilare per artisti emergenti Magma realizzato dall'associazione Scarti in collaborazione con il comune di Acerale e il sostegno della regione siciliana e della Sicilia film commission annovera diversi riconoscimenti e ogni anno richiama migliaia di appassionati del genere nel corso dell'incontro di presentazione che si è svolto stamani presso la sala stampa del Palazzo di Città ha proiettato un contributo video di Andrea Magnini regista e presidente di giuria di Magma Debut segmento riservato agli emergenti in videocollegamento anche Marco Segato già candidato ai David Di Donatello come miglior regista esordiente nel 2016 l'assegnazione del premio Lorenzo Vecchio scomparso prematuramente alla premiazione dei corti in concorso si terranno alla multisala Margherita dal 17 al 19 novembre Magma International Short Film Festival a De Celiale Catania oltre che sulla piattaforma My Movies Giulia Iannello è la responsabile della progettazione quest'anno tantissime novità innanzitutto allarghiamo le sezioni del festival ai lungometraggi finalmente quindi primo anno di una sezione di lungometraggi di esordio di registi internazionali Magma Debut siamo attualmente online sulla piattaforma numero uno per il cinema in Italia My Movies sarà possibile non solo vederli online ma anche in sala al multisala Margherita giovedì 17 proietteremo il film vincitore e poi ovviamente come sempre i piatti forti sono il concorso internazionale di cortometraggi il concorso regionale incontri per i registi esordienti che vogliono entrare in contatto col mondo produttivo tutta una sezione dedicata al cinema sperimentale alla videoarte in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti è un esordio diciamo un evento inaugurale realizzato in collaborazione con l'associazione italiana sommelier quindi ce n'è per tutti i gusti per la cereale la collaborazione con Magma rappresenta un importante veicolo di promozione non solo in Italia ma anche e soprattutto in ambito internazionale sottolinea l'assessore alla cultura Fabio Manciagli la ventunesima edizione già questo denota l'importanza ma soprattutto il successo che questo festival ha avuto non soltanto a livello locale nella nostra città nel nostro territorio ma soprattutto a livello internazionale ogni anno sono veramente tantissimi partecipanti che da tutto il mondo partecipano a questo festival un festival che appunto dà l'ustro alla nostra città perché grazie a questo il nome di Acirale viene veicolato in tutto il mondo con Magma noi ci fermiamo linea alla regge oggi Paolo Coco pubblicità ci rivedremo subito dopo rieccoci in studio dopo la pubblicità non ci sono notizie dell'ultima ora dunque chiudiamo il giornale guardando insieme le previsioni meteo per la giornata di domani sabato 12 novembre in Sicilia cielo nuvoloso variabile con possibilità di pioggia soprattutto nelle aree nelle aree orientali della nostra regione i venti saranno in regime di brezza da sud i mari poco mossi le temperature adesso con vistosi cali per quel che riguarda le minime più o meno stazionarie ma con qualche grado in meno invece per quel che attiene le temperature massime con il meteo noi ci salutiamo termina la prima edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con Oratg questa sera alle ore 19.45 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti grazie per la visione